La Greenway è un percorso ciclopedonale di 62 km che collega Treviso a Jesolo seguendo il corso del fiume Sile. Oggi è possibile provare questa esperienza grazie al progetto di Treviso Bike e e-bike con la collaborazione di ATVO con le biciclette e poi un servizio navetta per fare ritorno. In coinvolgimento di ATVO abbiamo deciso di attivare un servizio di pick up che consenta alle persone che noleggiano la bicicletta e percorrano la ciclabile in un senso o nell'altro di essere recuperati o in Prato Fiera a Treviso o in Piazza Nember a Jesolo e essere trasportati a casa. E' il piacere di vedere il territorio con una prospettiva diversa. Tu immagina poter percorrere 20-30 km oggi con le biciclette assistite, questa cosa è alla portata di tutti e poterle fare con una velocità molto sostenibile, potersi fermare a guardare la laguna, a guardare la parte del Sile per andare verso Treviso eccetera, credo sia fondamentale. E noi abbiamo un territorio bello che non ha bisogno di nulla perché è bello di suo, dobbiamo farlo conoscere al mondo. Il servizio è semplice, si prenota una bicicletta da Treviso Bike telefonicamente o dal sito aziendale. Dopo la messa in sella viene installata una app che guiderà i ciclisti lungo tutto il percorso e all'arrivo si potrà parcheggiare presso uno dei due store e rilassarsi, al costo di 40 euro. Il servizio ha fatto il suo esordio il 15 maggio e da allora ne hanno già usufruito circa 200 persone. La più temeraria è stata una signora di 82 anni di San Vito al Tagliamento che ha percorso i 62 km insieme alla nipote di 9 anni. Il sindaco Zoggia ha ricordato l'impegno del Comune per la realizzazione di nuove piste ciclabili. Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale Calzavara.